Nell'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di questa settimana c'è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso aperto con il fisco, proroghiamo fino a settembre-ottobre, fino all'autunno. E per quello che ci riguarda un altro passo verso la tregua fiscale c'è anche una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le attuali norme penali. Ora poiché è stata fatta su questo tema molto polemica e molta confusione, particolarmente per il caso di chi ha un contenzioso con lo Stato per omesso versamento e l'opposizione dice che noi abbiamo introdotto un condono tributario penale, perché noi i condoni non ne facciamo, vorrei dire che questo è banalmente falso. Noi che abbiamo previsto con la tregua fiscale una rateizzazione per i pagamenti di chi vuole adeguarsi, ci limitiamo semplicemente ad adeguare questa norma, stabilendo che il processo rimane sospeso fino a quando l'Agenzia delle Entrate non dice, non conferma che le rate che devi pagare le stai pagando regolarmente. Quindi tanto per cambiare diciamo facciamo chiarezza sulle molte cose false che per la verità sento dire in giro contro il governo ma che poi non corrispondono a verità.